eventi di tramontana attenuando gli effetti dell'aumento termico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 27 maggio. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio presenza di qualche nube, soprattutto nelle zone interne a ridosso dei rilievi, ma senza precipitazioni. In serata tornano i cieli sereni e il clima piuttosto fresco. Temperature, come notiamo dalla grafica, in lieve aumento, soprattutto nei valori massimi. Soffieranno venti moderati o forti dai quadranti settentrionali e, per quanto riguarda i mari, in generale mossi, molto mosso invece il canale d'Otranto. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli, che ci invia questo scatto di un timido sole al tramonto nascosto tra le nuvole e tra gli olivi nelle campagne di Melendugno, in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il campo di alta pressione si consoliderà ulteriormente posizionando i suoi massimi valori sul centro Europa e inglobando anche tutta l'Italia. Il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque e le temperature risulteranno in aumento, ma senza eccessi di caldo, con valori tipicamente primaverili, mantenendosi mediamente sui 24-25 gradi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 28 maggio. Cielo generalmente sereno durante tutto l'arco della giornata, qualche nube innocua sulle zone interne lucane e sul Salento, ma senza rischio di precipitazioni. In serata, cieli stellati e clima gradevole ovunque. Temperature in lievamento nei valori massimi, con punte fino a 27-28 gradi su tavoliere e arco ionico, altrove massime non oltre i 24-25 gradi. Soffieranno ancora venti deboli dai quadranti settentrionali, con maggiori rinforzi sulle coste adriatiche e sul Salento, e per quanto riguarda i mari, da mossi e poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Paolo Lacu, per questa incantevole alba dai mille colori che illumina Torre Sant'Emiliano, in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovra in pressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.